le note del silenzio ciao ragazzi come state? spero stiate tutti bene in questo video andrò a mostrarvi una ricetta che ho inventato personalmente è molto semplice e come avete letto maneggerò del cibo e questa ricetta non è vegana né vegetariana quindi se non amate questo genere o guardare persone che toccano il cibo vi consiglio di spegnere le vite avete visto tutti gli ingredienti che sono davvero pochi e ora mi vedrete tagliare la zucchina in questo modo facendola a fettine perdonate il tremolio della camera ma la prossima volta mi attrezzerò meglio io come vedete appunto sto tagliando le zucchine a fette abbastanza sottili ma potete utilizzare qualsiasi verdura di vostro gradimento amo davvero le torte salate mi piace sperimentare che questa è stata particolarmente buona poi qui abbiamo il prosciutto cotto che taglio allo stesso modo a striscioline diciamo che è una ricetta molto semplice però sfiziosa buona davvero buona questo è formaggio di capra ma in alternativa si può usare ovviamente la mozzarella per esempio o magari la provola affumicata purtroppo io non vivo in Italia quindi non avevo queste cose a disposizione e poi adoro il formaggio di capra di pecora quindi mi è andata bene così anche questo per comodità meglio tagliarlo a striscioline in modo da poterlo distribuire più facilmente e poi vi faccio vedere come devo dire che la pasta sfoglia che vedrete tra pochissimo ecco qui tutti gli ingredienti tagliati dicevo la pasta sfoglia che sto strotolando in questo momento è molto comoda se è rettangolare molto meno comoda se è rotonda quindi magari fate attenzione a questa cosa questa è una pasta sfoglia vegana ho preferito ho preferito prenderla vegana e ora distribuisco le zucchine in questo senso ma credo che forse sarebbe stato meglio distribuirle nell'altro senso e quando mi vedrete arrotolare di nuovo la pasta sfoglia capirete perché però il risultato è stato ottimo davvero l'importante non è cioè io ho cercato di dare una distribuzione uniforme al cibo perché tutte le parti di sfoglia fossero ben farcite però non è certamente fondamentale ecco l'importante è che la torta salata non sia troppo povera ecco perché la pasta sfoglia durante la cottura si confia e quindi rischiereste di avere tutta sfoglia e niente sostanza ve lo dico perché la prima volta qualche giorno fa quando ho mangiato questa torta salata avevo messo una quantità di ingredienti un po' scarsa e quindi infatti sto aggiungendo anche altre fette di prosciutto cotto comunque davvero le torte salate sono un cibo da non un cibo un piatto diciamo una ricetta da rivalutare perché sono rapide e possono davvero essere farcite con tante cose vedete ho distribuito il formaggio in maniera non ordinata però tutto sommato uniforme proprio perché resteranno così dei pezzettini che si scioglieranno quella ecco qui che faccio il rotolo in questo senso e ora capite perché magari le zucchine le avrei potute mettere nell'altro verso perché subito dopo andrò a tagliare il rotolo per fare delle fette e quindi la zucchina andrà tagliata a metà verranno fuori delle belle rose sul nella teglia diciamo così ecco qui cercavo di fare lentamente per non far tremare troppo il tavolo ma è impossibile questa è la base finale cioè posizionare questi rotoli io li posiziono in questo modo e dopodichè me ne sono avanzate due che ho messo in un po' di carta d'alluminio e le ho cotte lo stesso personalmente ho infornato a 200 gradi per 25 minuti ma dipende molto dalla pasta sfoglia quindi nel caso in cui farete questa ricetta o comunque nel caso in cui cuocerete mai la pasta sfoglia informatevi bene sul sul retro della confezione insomma su una modalità di cottura spero comunque che anche se non farete mai questa ricetta spero ovviamente di avervi rilassati ho voluto fare un video diverso dal solito anche se una volta avevo fatto già un video in cui preparavo delle tagliatelle ve lo lascio ve lo lascio in alto nelle schede ecco qui il risultato finale molto molto svizioso e appetitoso e anche molto bello da vedere secondo me ora vi lascio e ci vediamo prestissimo in un nuovo video ciao a tutti a tutti